Musica Entro la fine del 2019 sarà pronta la piazzola dell'Eli Soccorso a Pralungo di Mezzanego. Il comune è in attesa che l'Enel sposti le linee aeree nell'area e previsto un parcheggio e il deposito del sale. La Vagna studia i flussi di traffico, i commercianti positivi sulle eventuali pedonalizzazioni, ma con un timore la possibile congestione dell'Aurelia e dell'accesso all'ospedale. Siate cristiani autentici ed entusiasti e l'invito del Vescovo a San Bartolomeo della Ginestra conclusi i giorni di festa che hanno coinvolto l'intera comunità. Ricostruzione ferma nelle zone del centro Italia colpite tre anni fa dal terremoto. Il Vescovo D'Ercole ammonisce, il tempo porta a dimenticare, ma chi ha vissuto la tragedia non dimentica. Nuovi giochi e attrezzature per il parco di Via Piani a Carasco. I lavori interamente finanziati dal comune prenderanno il via a settembre. Dopo la conquista del nono scudetto, il capitano della Canoa Polo Chiavari, Luca Bellini, è in partenza per gli europei. Obiettivo è il podio e per il futuro una piscina per crescere il vivaio. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. La piazzola di Bita Leli Soccorso, in località pralungo di Mezzanego, è quasi pronta ad essere operativa. I lavori si sono protratti nel tempo, ma dopo la fine della pavimentazione nel mese di giugno, si prevede che possa essere utilizzata entro la fine di quest'anno. L'area comprenderà anche il deposito del sale e una ventina di posti auto per i residenti. Sentiamo Giacomo Rizzi. Un progetto iniziato nel 2014 e che vedrà compimento entro la fine del 2019. La genesi della piazzola del Leli Soccorso non è stata semplice. Il comune ha dovuto rilevare alcune delle aree da privati nella zona di pralungo, ai piedi della salita che da Borgonovo a Ligure porta al passo del Bocco. L'ultima cosa da fare è quello che l'Enel deve spostare le linee aeree. Telecom l'ho già fatto, adesso abbiamo pagato i diritti che sono circa 8 mila euro che sono stati versati già nella primavera. Adesso ho sentito la regione che ha dato i nulla ossa idraulici per staffare le linee nel ponte che attraversa il Moliano. Per cui spero che nel mese di settembre si programmi il lavoro in maniera che entro la fine dell'anno di aver terminato questa importante realizzazione che in caso di emergenza sarà un punto importante perché ci sarà finalmente una piazzola sul nostro fondo valle per atterrare in sicurezza. Il comune ha potuto contare anche sul sostegno della città metropolitana poiché nell'area è incluso anche il deposito del sale per liberare la strada dal ghiaccio e dalla neve durante l'inverno. La struttura, estesa circa per 2000 metri quadrati, includerà anche una ventina di parcheggi per i residenti. Il risultato è buono perché ci sarà anche una dotazione di parcheggi importante a servizio di questa zona del paese per cui è multifunzionale quest'area. Oltre alla piazzola del risoccorso c'è anche un po' di parcheggio per i residenti. Il deposito del sale che ormai non viene più grandi freddi però ci fossero delle gelate e averci il deposito del sale sulla strada che porta al passo del Bocco è una cosa importante perché permette l'immediata salagione di queste strade e la messa in sicurezza più veloce rispetto a dove i depositi sono più lontani. Per la cronaca sono state individuate dai carabinieri di Portofino due donne straniere considerate le autrici di due furti in abitazione avvenute tra il borgo e la località di Paraggi. Ieri mattina una turista ucraina ha chiamato il numero unico per le emergenze segnalando di essere stata vittima di un furto nella sua casa proprio a Portofino. I carabinieri hanno verificato sul posto che qualcuno era riuscito ad introdursi e aveva portato via capi accessori, gioielli e denaro contante per un valore totale di circa 20.000 euro. Grazie alle immagini delle telecamere e alla collaborazione con la polizia locale i carabinieri hanno individuato due donne che si incamminavano verso l'abitazione e pochi minuti dopo si allontanavano di fretta con dei borsoni. Alcune ore dopo le donne sono state sorprese a piedi in zona Paraggi mentre si allontanavano da una strada residenziale. Sono state così fermate e sottoposte a controllo. In quel momento ai militari è giunta una seconda segnalazione di furto in abitazione proprio nella stradina dove le due donne erano state fermate. Così i militari hanno scoperto che le due avevano con sé la refurtiva a provento di entrambi i furti, alcuni arnesi da scasso e altri oggetti su cui i carabinieri stanno compiendo accertamenti. La refurtiva è stata restituita e le due donne sono state denunciate. Si sono concluse poco prima delle 9 di questa mattina le operazioni di bonifica all'uscita del casello autostradale di Genova Ovest dove nel pomeriggio di ieri si era ribaltata un'autocisterna contenente acido solfidrico. Il mezzo pesante stava affrontando l'elicoidale verso l'uscita quando si è ribaltato. Ad effettuare il travaso è intervenuto il nucleo specialistico dei Vigili del Fuoco di Milano che grazie a speciali pompe adatte ad acidi e liquidi infiammabili ha trasferito parte del prodotto in un altro auto articolato allo scopo di alleggerirla e poter lavorare nei limiti di portata della gru. Torniamo adesso sul nostro territorio. L'amministrazione comunale di Lavagna nei giorni scorsi ha effettuato una rilevazione dei flussi di traffico che interessano le principali strade della città. Lo ha fatto nel periodo estivo, questo per testare la circolazione delle auto nelle fasi di maggiore criticità. Ora proseguirà lo studio condotto da Exis, spin-off dell'Università di Genova, che elaborerà una proposta complessiva di ridefinizione delle aree pedonali con eventuale modifica delle zone di sosta e dei sensi di marcia. Ai commercianti di Lavagna è stato chiesto un parere. Sentiamo Emanuela Castello. A voi commercianti che cosa è stato chiesto? Di fare una prima indagine in maniera diciamo molto amichevole tra tutti i commercianti per capire chi è favorevole o meno. Io l'ho fatto nella mia via, in qualità di responsabile anche di via di Via Dante e molti, anche perché Via Dante è caratterizzata da una grande presenza di ristoranti o di bar, è favorevole alla chiusura della via. Quali tipo di passi andrebbero mossi? Lavagna purtroppo non ha delle strade di scorrimento in un numero sufficiente per far defluire il traffico, soprattutto verso l'autostrada, perché le strade di scorrimento sono Via Dante e l'Aurelia. Via Cavour è in senso contrario, per cui chiudendo appunto Via Dante, sulla via Aurelia si va a creare un eccesso di mezzi che la percorrono, creando rallentamenti e anche e soprattutto sugli incroci le macchine che devono defluire da Lavagna in senso perpendicolare non riescono a defluire. Lavagna ha un ospedale che è sede di DIA di primo livello per tutto il territorio. Vedete delle problematiche anche relative alla sicurezza? Anche quelle vanno valutate con molta attenzione, perché il nostro ospedale, soprattutto col pronto soccorso, è chiaramente il punto di riferimento non solo per la riviera, ma anche per tutto l'entroterra. A questo bisogna fare molta attenzione e dare la priorità chiaramente ai mezzi di soccorso. E anche lì noi vediamo, quando facciamo le feste, musiche gusto e medievo con gusto, e chiediamo la chiusura per questi due pomeriggi dell'intera città, via Fieschi anche lì diventa praticamente le macchine ferme non hanno possibilità di muoversi, perché non riescano ad uscire sull'Aurelia. E anche questo è un punto su cui riflettere molto bene, perché poi possono fare delle prove e vedere cosa succede. Noi lo vediamo nell'ambito delle feste, che le persone a un certo orario non riescono proprio più a muoversi, se non hanno un motorino o una bicicletta. Il Comune di Lavagna tiene aperto il centro di raccolta dei rifiuti di Via Garibaldi tutte le domeniche, sino al 15 di settembre. L'apertura straordinaria è stata presa per agevolare i turisti domenicali e i proprietari di seconde case in partenza. Il centro sarà aperto dalle 15 alle 19. Sarà comunque accessibile con il consueto orario, dalle 8 alle 12, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato. Rimarà chiuso il mercoledì mattina. Con un post su Facebook, il presidente della regione Liguria, Giovanni Totti, è intervenuto quest'oggi sul progetto di realizzazione della gronda di Genova e su tutte le infrastrutture strategiche per lo sviluppo del paese. Il governatore Ligure si dice pronto ad una manifestazione pubblica se il nuovo governo non darà risposte e rassicurazioni immediate sulle grandi opere. Le infrastrutture, scrive Totti, sono indispensabili per la crescita del paese. La decrescita felice non esiste, esistono imprese, disoccupati e cittadini che aspettano risposte. Il cinghiale è una specie in forte sovrannumero e in crescita che può rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica non più sottovalutabile. A dirlo l'assessore regionale alla caccia, Stefano Mai, secondo cui c'è il dovere di salvaguardare sia le produzioni agricole sia la sicurezza delle persone. Come Regione, spiega Mai, abbiamo usato i metodi di cattura che la legge ci consente, tuttavia siamo disponibili a valutare tutte le formule e se sarà opportuno e soprattutto efficace a modificare i regolamenti regionali. Ma, conclude, è innanzitutto necessario che sia cambiata la legge nazionale come da tempo richiesto dalle Regioni. E siamo così all'informazione religiosa. Veniamo in Diocesi, nel giorno della memoria liturgica di San Bartolomeo. Questa mattina il Vescovo ha celebrato la messa nella chiesa della Ginestra a Sestri Levante. Monsignor Tanasini ha conferito la cresima ad un giovane, invitando nell'omelia ad essere cristiani autentici, coerenti e soprattutto entusiasti. La sintesi nel servizio. La tradizione ci fa immaginare un Bartolomeo maturo, più anziano degli altri apostoli, un uomo rozzo che parla senza mezzi termini. Della figura del Santo, però, il Vescovo, stamani nella chiesa della Ginestra a Riva Trigoso, recupera un altro aspetto. Bartolomeo è un entusiasta, spiega, è colpito dalla capacità di Gesù di leggergli dentro, per questo lo segue con slancio e dedizione. È l'insegnamento che Monsignor Tanasini rivolge a tutti per essere oggi cristiani autentici. Abbiamo bisogno di essere cristiani entusiasti, non cristiani addormentati. Dobbiamo scoprire quello sguardo di Cristo nel profondo del nostro essere, che ci scuote, che ci trascina, che ci fa conoscere a noi stessi, che demolisce ogni maschera. Essere cristiani autentici non vuol dire essere chiusi o rigidi, prosegue il Vescovo, ma prendere sul serio e vivere con coerenza il Vangelo. In questo modo davvero facessimo tremare il mondo dell'amore di Dio, della luce della sua verità. Durante la messa un ragazzo ha ricevuto la cresima. Nel giorno di San Bartolomeo la comunità ha potuto così recuperare le proprie radici cristiane. Il papà di Marco ha ricevuto il trasferimento di lavoro a Livorno, ed è stato bello ragionare un po' su questo trasferimento, e anche il desiderio di Marco e della sua famiglia di concludere quel cammino iniziato qua, all'iniziazione cristiana, quindi dei sacramenti, e allora oggi con gioia abbiamo celebrato anche la cresima di Marco. Una festa nella festa per una parrocchia dove l'entusiasmo non manca, soprattutto grazie alle tante persone che aiutano e di numerosi giovani. Questa è proprio una festa qua nella nostra parrocchia, perché davvero c'è chi prende ferie apposta per poter dare una mano, le famiglie fanno festa, si riuniscono, mangiano insieme, e anche i giorni delle sere scorse in cui abbiamo comunque festeggiato insieme, sono stati giorni molto particolari. Oggi il santo è stato festeggiato anche a Leivi e festa di San Bartolomeo anche a Statale di Ne, domani la messa alle 11, alle 17 i Vespri e la processione, a mezzogiorno e alle 19 saranno aperti anche gli stand gastronomici, ma vediamo anche altri appuntamenti religiosi, nella parrocchia di Santa Maria di Camposasco si festeggia la Madonna della Cintura, domani la messa alle 9.30, alle 17.30 il Vespro e la processione, seguirà una serata insieme. Nella Cappella dei Santi Nazario e Celso, in località Casareggio di Orero, si festeggia la Madonna della Guardia, domani alle 18 la messa e la processione cui seguirà un piccolo momento di condivisione. A Carro invece nello Spezzino si festeggia il Patrono, Sant'Antonio Maria Gianelli, domattina alle 11 la messa nella chiesa parrocchiale, alle 20.30 i Vespri che saranno celebrati in oratorio, seguirà la processione per le vie del paese. E infine a Lovari, frazione di Rezzo Aglio, si festeggia il Sacro Cuore di Maria, domattina alle 11 la messa con la processione. Nell'occasione saranno commemorati i caduti della frazione, Sisto Pagliughi, il Carabiniere, e Terenzio Pacigalupi Alpino. Al termine sarà possibile condividere il pranzo. E in occasione della solennità di Nostra Signora della Guardia, il 29 di agosto, ATP intensificherà il servizio verso il santuario sul Monte Figogna, a Genova, e verso il santuario di Velva, a Castiglione Chiavarese. Le corse per Ceranesi partiranno dalla metropolitana di Brin e transiteranno per Bolzaneto, via Giro del Vento e attraverso l'Ipercop. Per raggiungere il santuario di Velva, invece, sarà intensificato il servizio ordinario di linea dalla stazione ferroviaria di Sesti Levante, sino appunto a Velva. Cambiamo argomento, oggi ricorre il terzo anniversario del terremoto che colpì Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, provocando circa 300 vittime. La vita nei paesi distrutta dal sisma continua all'insegna della speranza che possa partire dalla ricostruzione. Lo scoraggiamento e la rinuncia, però, attanagliano l'animo di tanti. Radio Vaticana ne ha parlato con Monsignor Giovanni D'Ercole, vescovo di Ascoli Piceno. Sentiamo. Il tempo passa e purtroppo, come dire, è un cattivo compagno di viaggio, in questo senso, perché porta un po' a dimenticare. Ma chi ha vissuto la tragedia evidentemente non dimentica nulla. Cosa è cambiato in questi tre anni, da questo punto di vista? Ma per quanto riguarda la ricostruzione, diciamo, è andata abbastanza lentamente per quanto riguarda le ricostruzioni private, ma la ricostruzione dei luoghi, dei paesi, è veramente tutta ancora ferma al punto di partenza. Per quanto riguarda le chiese, ricordo che la distruzione delle chiese è praticamente la morte delle comunità dei villaggi. Ora noi abbiamo potuto rimettere a posto alcune chiese, grazie a Errani, il primo commissario, perché dopo di lui non c'è stato più nulla e noi siamo fermi. Io nella mia dioce si sono riuscito a mettere a posto una quindicina, una ventina in totale, che è molto poco, però è già un piccolo segno. Non si parla solo di ricostruzione materiale, appunto, ma anche spirituale. Come si potrà procedere da questo punto di vista? Allora, per quanto riguarda la ricostruzione spirituale, umana, sociale e spirituale, nella nostra diocesi noi abbiamo dato una grandissima importanza e io ho cercato di assicurare subito un luogo provvisorio di incontro e di preghiera. Ora, per far crescere la speranza in questo momento non è assolutamente facile, per due motivi. Primo perché gli anziani se ne vanno un po' per volta, muoiono e, diciamo, hanno la sofferenza di non rivedere i loro luoghi. I giovani, i ragazzi, soprattutto, un po' spaventati dal terremoto, sono andati altrove e rischiano di non ritornare più in questi luoghi. La gente ha ancora paura. La paura non la togli mai. Vincere la paura è il lavoro più difficile che noi cerchiamo di fare attraverso la solidarietà e la responsabilità. Si chiude oggi il meeting di Rimini. Anche quest'anno grande partecipazione di ospiti e di pubblico. Esponenti della Chiesa, del mondo politico, della società civile e dell'economia hanno animato questa sette giorni di eventi. In totale ci sono stati 179 incontri con 625 relatori, 20 mostre e 35 manifestazioni sportive. La prossima edizione già in cantiere si terrà dal 18 al 23 di agosto 2020 e avrà per titolo Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime. Oggi, infine, è stato molto applaudito il discorso del presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, durante l'intervento che gli ha fatto suggella, il quarantesimo meeting. Da Sassoli, una spinta a credere nell'Europa quale porto sicuro per un futuro solidale e partecipe. In questa occasione ricordo che sul palinsesto di Telepace, ancora oggi e domani, sarà possibile rivedere in replica gli incontri del meeting. Tutti i dettagli sul nostro sito teleradiopace.com Cambiamo tema e torniamo sul nostro territorio. Parliamo del comune di Carasco e di un progetto di riqualificazione per il parco giochi di Via Piani che è pronto. I lavori inizieranno dopo il 21 di settembre e daranno un nuovo smalto ad una zona che, oltre ai bambini, ospita in estate le manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale. Ce ne parla Giacomo Rizzi. Non si tratta solamente di sostituire giochi ed attrezzature consumate dall'uso e dalle intemperie, ma di rinnovare un luogo di socialità per bambini e adulti. La riqualificazione del parco di Via Piani non gioverà solo al gioco dei bimbi che lo frequentano, ma anche alle manifestazioni estive organizzate dal comune che si svolgono proprio in quei giardini. L'intervento sarà interamente finanziato dal comune grazie a fondi reperiti attraverso onnide urbanistici. L'inizio dei lavori è previsto dopo il 21 settembre. Abbiamo tanti giochi che sono vecchi e bussoleti e l'amministrazione ha deciso di fare un progetto nuovo perciò verrà fatta una riqualificazione dell'area giochi. La spesa preventivata siamo sui 30 mila euro e i lavori dovrebbero iniziare dopo il 21 settembre. Purtroppo sono fondi comunali vengono doneri di urbanizzazione e quest'anno qua è una nata un po' abbastanza critica e siamo riusciti a trovarli e perciò li abbiamo impegnati per dare sicurezza perché i bambini devono essere tutelati in qualsiasi modo e dove vanno a giocare devono avere la garanzia che i giochi siano in perfette condizioni e siano disponibili a essere usufruiti da tutti. Pur essendo uno sforzo economico gravoso per un piccolo comune come Carasco dove è sempre difficile reperire risorse se tratta di un'opera che interessa un largo numero di cittadini Pondre in linea con la tendenza demografica del Tigulio dove gli abitanti sono in larga maggioranza anziani Carasco ha una percentuale di under 14 mediamente alta mentre a Chiavari e a Sestri da Pallo si attestano tra il 10,9 e l'11,4% a Carasco raggiungono il 13,7% del totale dei residenti Archiviato il nono scudetto il capitano della canoa polo Proscogli Chiavari Luca Bellini è pronto per una nuova avventura domani partirà insieme alla formazione italiana impegnata agli europei a Coimbra in Portogallo il movimento sportivo grazie ai risultati conseguiti dalla squadra chiavarese ha assunto in questi ultimi anni un rilievo importante ora la società spera in una piscina dove poter allenare il vivaio l'intervista come è stato di confermarsi ma è stata una vittoria sofferta perché è stato abbastanza un percorso complicato perché arrivando secondi in stagione regolare abbiamo avuto un playoff un po' più complicato diciamo dei nostri rivali e abbiamo incontrato il quarto di finale alla Roma che è un'ottima squadra in semifinale il Napoli col quale siamo andati addirittura a gara 3 dove poi ne siamo usciti con una grandissima partita e poi abbiamo vinto per 3 a 2 la finale contro l'ex Siracusa contro la Catania che è una squadra sempre molto molto forte e siamo contenti per il nono titolo Ricordiamo che a breve tu partirai per gli europei si domenica partiamo con con la squadra nazionale per gli europei che si terranno in Portogallo a Coimbra la squadra è forte quindi diciamo l'obiettivo è confermarsi sicuramente cioè comunque salire sul podio puntiamo a vincerlo ci sono squadre di livello ma ce la metteremo tutta spesso si dice che vincere è difficile ma la cosa più difficile è di confermarsi sì assolutamente negli anni ormai è consolidato che il sistema che adottiamo funziona perché insomma nove scudetti più Coppa dei Campioni più varie Coppa Italia comunque la realtà ormai è questa ci vorrebbe probabilmente la cosa che ci vorrebbe di più è una struttura diciamo un po' più importante come potrebbe essere una piscina per cercare negli anni di andare a costruire un settore giovanile che possa essere di ricambio al gruppo nostro gol di Luca Bellini a 2.42 siamo così agli appuntamenti per la giornata di domani sfogliamo insieme l'agenda di Telepace appuntamenti in agenda per domenica 25 agosto Lampi di Santa Magreta Ligure celebra il partigiano Silvio Solimano medaglia d'oro alla resistenza alle 7 partenza in pullman da Piazza Mazzini alle 10 la messa nella chiesa patrocchiale di Allegrezze seguita dalle deposizioni di una corona dall'oro sul cipo celebrativo secondo giorno del mercatino dei sapori e delle tradizioni a Chiavari in via di Varola con le bancarelle provenienti da varie regioni d'Italia che saranno presenti dalle ore 10 alle 20 festa della caccia a Missano di Castiglione Chiavarese alle 11.30 inizio con un convegno e la presentazione del calendario venatorio alle 13 il pranzo a base agli asado 42esima sagra della patata di rocca tagliata a Nerone nei boschi di Corsiglia dalle 15 distribuzione di patatine fritte alle 19 l'apertura di stand gastronomici e a seguire la serata danzante ultimo giorno di apertura per la mostra artisti e artigiani a Leivi dalle 18 nella sala polivalente di piazza Giovanni Paolo II caccia al tesoro dei pirati al chiosco della musica di Rapallo l'evento dedicato a bambini e genitori inizierà alle 18.45 ultima giornata il storio solidale la 4 giorni di festa musica e stand gastronomici il cui ricavato va l'associazione Gigi Ghirotti impegnata nel sostegno dei malati terminali e di SLA dalle 19 nella zona pedonale gli Sori nel santuario di Nozarigo a Santa Margherita Ligure andrà in scena lo spettacolo Liguria delle Arti con lo storico dell'arte Giacomo Montanari l'organo di Fabrizio Fancello e la voce di Nino Petruzzelli l'inizio alle 20.30 musica jazz in piazza Chiavari con l'artigulio Big Band alle 21.30 in piazza Fenice passiamo adesso agli appuntamenti per lunedì 26 agosto in piazza del sole a Santa Margherita Ligure si trarà il laboratorio di biologia per bambini impariamo il mare l'inizio alle ore 10 inizia la rassegna Santa Incontra organizzata dall'associazione Isaia Berlin alle 11.30 nello spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure Petruzzelli trarà la conferenza su teatro e territorio Tigulio a teatro in scena a Villa Durazzo il Santa Margherita Ligure alle 21 lo spettacolo Bacimussu Ucanta Lamleto ultimo lunedì con le visite guidate al centro storico di Lavagna organizzate da Estate Ambiente ritrovo alle 21 in piazza della Libertà davanti al municipio Con la scheda degli appuntamenti si conclude il nostro telegiornale per tutti gli aggiornamenti continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com e sul canale All News 187 grazie per averci seguito buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti Grazie a tutti